Sono sereno, sto bene. Magari ero un po' nervoso di mio, eh? Stai bello di fuori, eh? Ha parlato quella che è da fuoco alle case. Non sono! Alla persone non gliene frega niente. Pensano di aver ragione solo perché sono di più. Quelli normali. E ai confini dell'immaginazione, quanto di più sorprendente e delizioso il vostro palato abbia mai assaggiato. E se lo aprissimo veramente? È frighissimo. Ma tenedi conto di quello che hai messo in piedi? Ce l'abbiamo fatta. E poi hai distrutto tutto. Tutto il cuore! Con tutti i problemi che ho, se ci aggiungo anche te... Sono stanca! Fidrai che piano piano le metto tutto a posto. Adesso il gruppetto di Mati si compatta contro tutti e facciamo squadra. Io sono tutta sbagliata. Tu vai bene così come sei. L'hai detto tu che io sono un problema. Mi mancava un pezzo. Mi è sempre mancato. Vediamo su. Vediamo qui. Vediamo qui. Vediamo perché! Grazie per la visione!